Io sono Federica Mannoni Panucci e svolgo da circa 20 anni la mansione di addetto di rampa. Cos'è addetto di rampa? Ai più è sconosciuta questa figura perché è poco visibile. In realtà è l'intermediario tra diverse figure professionali e lo scalo. Vado a spiegarmi. L'addetto di rampa è una figura che si occupa di un aereo mobile dal suo arrivo alla sua partenza, cioè nel suo turnaround, nel suo tempo di transito sullo scalo. Quindi abbiamo due momenti diversi. Uno per quanto concerne l'assistenza di un arrivo di un aereo, dove appunto il rampista inizia il suo lavoro già quando la torre annuncia il volo in arrivo sullo scalo e quindi si prepara tutta una serie di documenti che riguardano cosa scaricherà quel volo, quanti passeggeri, se quel volo ha assistenze particolari come disabili, minori o anche ministri e quant'altro. E ciò che scaricherà, perché il ruolo del rampista durante l'arrivo termina quando lo sbarco è ultimato e lo scarico anche. Per cui una volta arrivati nella piazzola, che è appunto lo stand dove si parcheggia l'aereo, è nostra cura controllare che la stessa sia pulita, che non abbia oggetti estranei come bulloni che possono facilmente trovarsi perché magari si sono staccati da dei carrellini, eccetera, o carta o pezzetti di plastica che potrebbero comunque danneggiare l'aereo mobile in ingresso, avendo ovviamente i motori accesi, così come le macchine, per esempio, d'olio che un mezzo potrebbe aver perso nell'assistenza di un'aereo mobile che precedentemente aveva occupato quella piazzola. Quando, dopo aver svolto questo controllo, si attende l'aereo mobile e il nostro compito è al blocco dell'aereo mobile, quando l'aereo si ferma e vengono messi i tacchi, una volta che il beacon, cioè la lucina rossa che l'aereo mobile ha accesa, si spenge, ci colleghiamo tramite la cuffia per avere un primo contatto con l'equipaggio di condotto, cioè con il pilota e con il comandante, dove confermiamo il posizionamento dei tacchi in maniera tale che loro possano rilasciare il fieno di parcheggio per farlo raffreddare. Dopodiché procediamo a un controllo visivo dell'aereo mobile, facendo un giro intorno allo stesso, controlliamo i portelloni, i motori stessi, insomma, se sono così visivamente a posto, perché non siamo dei tecnici, però facciamo anche questo tipo di controllo di sicurezza, e poi si procede allo sbarco dei passeggeri. Laddove trovassimo ammaccature o d'altro, facciamo riferimento al comandante e si va a controllare poi sul libro di bordo se delle piccole ammaccature erano già presenti perché in tolleranza, perché controllate e verificate, oppure magari era una cosa nuova di cui appunto mettere poi a conoscenza il personale tecnico. Un aereo può ripartire nell'immediato e quindi avere un transito in base alla tipologia di aereo mobile. Ogni tipo di aereo ha dei minuti in cui girare, in cui fare tutte le operazioni preliminari, che sono le pulizie, il catering, il rifornimento carburante, che è a nostra cura nel senso che comunichiamo all'alveo rifornitore un minimo carburante e un definitivo in base a ciò che il comandante ha deciso di fare. Il nostro ruolo per quanto riguarda la partenza è quello di collaborare con le diverse figure professionali, come detto pulizie, catering, avio rifornitore, ma anche carico e scarico, bagagli, perché su un aereo si caricano non solo i bagagli, ma anche diverse tipologie di merci, tra cui anche merci pericolose, che vengono comunque regolamentate dall'aiata. E noi facciamo molti corsi di aggiornamento. L'ultimo, per esempio, riguardava in ordine di tempo le batterie a litio, perché non possono essere trasportate in quantità eccessiva in una stiva, perché tendono all'autocombustione. Quindi, per esempio, un certo range, un certo quantitativo è tollerabile e va bene, ovviamente deve essere caricato in un certo modo e controllato, mentre per altri casi è preferibile portare la batteria a litio, che possa essere in un computer, per esempio, faccio un esempio semplice, a bordo, piuttosto che nel bagaglio a mano stivato, è preferibile. Ovviamente veniamo a contatto con gli equipaggi, ai quali forniamo delle informazioni essenziali per il volo, come appunto il piano di volo, i passeggeri previsti, la tipologia delle merci, se ci sono problemi inerenti ai carichi nelle stive, e ovviamente il comandante è informato di tutto ciò che si svolge sia a livello di passeggeri, quindi, come dicevo prima, per l'arrivo di assistenze particolari, perché ne abbiamo anche appunto per la partenza, sia invece per quanto riguarda il carico, che è un aspetto molto delicato e di cui noi ci occupiamo, interagendo con un ufficio essenziale, cioè l'ufficio del bilanciamento, che si occupa appunto di bilanciare un'aeromobile per fornire un documento senza il quale l'aereo non può lasciare la piazzola, che si chiama l'out sheet, cioè piano di carico, in base al quale il comandante va a inserire nel sistema di bordo computerizzato dei dati per il decollo e l'atterraggio, quindi è di fondamentale importanza. Per cui possiamo dire che la figura del rampista è un po' da intermediario tra le varie figure più conosciute a livello aeroportuale e quelle anche meno note, nel senso che interagisce con l'equipaggio fornendo poi informazioni essenziali per il volo a un coordinamento di scalo. Si può dire che noi siamo i suoi occhi, perché loro sono in un ufficio e non vedono tutto ciò che accade sotto l'aeromobile. Noi siamo gli occhi dello scalo, per cui li teniamo informati di tutto ciò che accade durante il transito, l'arrivo e la partenza di un volo. Come dicevo, facciamo tantissimi corsi di aggiornamento, ci sono richiesti con ovviamente dei test finali e è essenziale conoscere la lingua inglese, perché la maggior parte dei testi sono scritti in inglese e andando a vedere più nello specifico il mio lavoro, possiamo dire che dopo l'arrivo di un'aeromobile e a termine dello sbarco dei passeggeri, abbiamo delle tempistiche da rispettare, perché in base, come dicevo, alla tipologia dell'aeromobile abbiamo un tempo di transito. Per cui una volta che lo sbarco dei passeggeri è ultimato, il compito del rampista è quello di coordinare le varie operazioni, dando una tempistica da rispettare, per poi iniziare le operazioni preliminari per l'imbarco. Mi spiego, finito lo sbarco dei passeggeri, normalmente il primo ente che entra dentro l'aeromobile sono le pulizie di bordo, che si occupano appunto di pulire l'aeromobile ed hanno una tempistica che devono rispettare, perché poi altrimenti inficerà sull'imbarco dei passeggeri. Allo stesso tempo spesso collaborano insieme le pulizie con il catering, perché anche il catering va cambiato, sostituito, per cui anche loro caricano e scaricano i trolli per la partenza, in maniera tale che poi l'aeromobile sia pulito, rifornito di bevande e di cibo, nel tempo consono per poi imbarcare i passeggeri. Contessualmente il rampista si occupa, mentre loro lavorano sopra l'aeromobile, si occupa sotto bordo, cioè sotto l'aeromobile, di intanto iniziare il carburante con un minimo che abbiamo ricevuto. Noi riceviamo tutti i nostri dati su un sistema caricato su un telefonino aziendale, per cui su quel sistema abbiamo anche il minimo carburante. Lo iniziamo, ovviamente poi sarà confermato il carburante dall'arrivo dell'equipaggio in partenza, che non sempre rimane quello dell'arrivo, ma cambia. A volte ci arrivano dei messaggi che ci comunicano anche il finale e subito dopo arriva l'equipaggio. Quindi iniziamo le attività di rifornimento carburante. Abbiamo un briefing, un incontro con il capo squadra che coordina gli operai, circa come caricare l'aeromobile, sia di bagagli, sia del caricamento di merci, o carichi particolari, come potrebbero essere gli avi. Per avi si intende animali vivi, che possono essere cani, gatti, ma anche cavi, insomma, diverse tipologie di animali. E ovviamente loro occupano delle stive, delle posizioni specifiche all'interno di un'arrivo mobile, perché ci deve essere le radiazioni, ci deve essere l'ossigeno. Successivamente, all'arrivo dell'equipaggio, ci occupiamo dell'imbarco dei passeggeri e quindi di coordinare l'imbarco con una tempistica che varia dai 30 a 35 minuti. Ovviamente mantenendo quel famoso turnaround dell'aeromobile, non andando oltre, perché altrimenti l'aeromobile sbloccherebbe dalla piazzola e andrebbe via in ritardo. Ultimato l'imbarco dei passeggeri, che coordiniamo con il gate di imbarco, quindi con le colleghe dello scalo e con il coordinamento di scalo, abbiamo un confronto ovviamente costante con il capo squadra del carico bagagli sotto bordo, il quale mi consegnerà la situazione attuale di come è stato caricato l'aeromobile. Noi come figura interagiamo con l'ufficio del bilanciamento al quale comunichiamo esattamente in ogni posizione cosa è stato caricato dicendo anche per esempio la tipologia di carico, nel senso confermando passo passo tutto ciò che è stato messo nelle stile. La maggior parte degli aeromobili ora sono containerizzati, cioè ci sono dei grandi container che contengono i bagagli. Il numero dei bagagli può variare da un minimo di 1 a un massimo di 30 normalmente in un aereo di medio raggio. Per cui noi andiamo proprio a confermare all'addetto del centraggio che in quella posizione ci sono tot bagagli, nell'altra un altro numero, in maniera tale che il bilanciamento sia ottimale e confermiamo anche la chiusura dei passeggeri che deve coincidere ovviamente a bordo e sul documento che viene messo senza il quale il comandante non può partire, cioè il piano di carico che contiene informazioni essenziali per l'equipaggio di condotta perché vanno inserite nei computer di bordo in base alle quali vengono regolati i computer per l'atterraggio e per il decollo. Quindi una volta che l'imbarco viene ultimato confermiamo all'equipaggio di cabina e all'equipaggio di condotta il numero dei passeggeri, c'è un ultimo controllo del piano di carico e della documentazione relativa eventualmente ci sia di merci particolari o meno, deve tutto coincidere, deve tutto collimare, deve essere esattamente lo specchio di quello che legge il comandante sul foglio, deve essere esattamente quello che poi si trova in stiva. Non ci devono essere variazioni, purché minime, devono essere comunicate. Dopodiché si procede a chiudere le porte dell'aereo e in ultimo il rampista è anche colui che si collega in cuffia e grazie all'aiuto dell'addetto dei pushback, perché l'aereo dalla piazzola esce attraverso un trattore che spinge l'aereo mobile fuori dalla piazzola e lo mette sulla taxi, dove poi lo lasceremo per procedere alla corsa verso il decollo. E quindi noi ci occupiamo di questo passaggio dalla piazzola alla taxiway, dove poi, una volta ottimato la spinta e l'aereo viene di nuovo riparcheggiato, riposizionato e il trattore viene staccato, si procede alla messa in moto dei motori. Cioè, noi siamo stati addestrati per avere questo colloquio con l'equipaggio di condotta, quindi con il pilota e con il comandante. Nell'autorizzazione da parte nostra che i motori, l'aereo mobile sono libri da impedimenti e si può procedere alla messa in moto. Laddove ci siano dei problemi inerenti a qualunque tipo di problematica che possa essere una perdita di olio, di carburante o lo stesso funzionamento del motore, ovviamente è nostra cura avvisare tempestivamente il comandante che ovviamente chiederà l'intervento di personale specializzato nella figura del tecnico aeronautico. Dopodiché, una volta ultimata la messa in moto, l'aereo mobile è libero di procedere la sua corsa verso la pista di decollo e partire. Io ho intrapreso questo percorso perché ero affascinata da tutto ciò che riguardava l'ambito aeroportuale vivendo da sempre a Fiumicino e quindi avendo sempre visto questi aeri che atterravano e decollavano ero molto incuriosita e anche per avere una mia indipendenza economica. che è un'esplosione che è un'esplosione che è un'esplosione Grazie a tutti